Buonasera, benvenuti come sempre alla Corte di Tensinato, Sazione Arte del Curio. Oggi abbiamo con noi la scrittrice Chiara Gergami, che è venuta apposta dall'amore dell'amore, perché non è proprio da Pietro Rangolo, per presentarci il suo nuovo libro, uscito da poco, con delle edizioni pre, che si intitola Io sono d'arte. In realtà è il dimintivo, possiamo dire, abbreviativo di D'Artagnan, che è il nome del suo gatto domestico, di cui oggi ci parlerà. E tra poco ci racconterà anche il contenuto del libro e gli aneddoti che sono riportati all'interno del suo testo, proprio sul comportamento di questo straordinario animale domestico, che è il felino. Proprio riguardo a questo, al comportamento del felino domestico, abbiamo invitato oggi la professoressa Valeria Celli, che ringrazierà per aver giocato il nostro invito, proprio per introdurre questo libro, perché Valeria ha un'esperienza molto interessante proprio su questi animali, non solo personalmente, ma anche attraverso gli aneddoti e gli studi realizzati dal celebre entomologo Giorgio Celli, che vediamo qui in delle fotografie, prematuramente scomparso nel 2011 e che ha scritto vari libri importanti e famosi proprio sul comportamento dei gatti, oltre naturalmente degli insetti di molti animali in realtà. Tra l'altro ha condotto per vari anni un notissimo programma televisivo che si ricorderete nel regno degli animali, infatti sulla RAI. Quindi questa è un po' l'introduzione che ho fatto io brevemente. Quindi prima di lasciare ancora la parola, insomma, alle nostre regatrici, vi porto qui ancora un secondo soltanto per informarvi, perché non lo sapesse, perché a me lo sanno tutti, che Chiara Bergani è insegnante, pedagogista e criminologa, collabora con varie liste specifiche di questo settore, ha scritto molti libri sulle tematiche del bullismo, del cyberbullismo e problematiche psicologiche dei ragazzi minorelli, tra cui Lo scarpo rosso, storie di bullismo, ma in più paura, il bullismo spiegato a tutti, il mondo si è fermato, non voglio scendere, le voci della verità, la didattica distanza e molti altri. Io ho citato solo questi che sono i principali, diciamo. Però questa volta ha voluto, quasi così come per prendersi un attimo di pausa, ecco, ha voluto un pochino realizzare un testo più leggero, insomma, che forse a affrontare, invece è una tematica a leggere un po' a rumore anche dei suoi lettori, giusto? E quindi oggi parleremo del suo appuntosissimo gatto, D'Anti. Quindi io adesso passerei una parola a professoressa Celli, così ci introduce sul tema di Giorgio Celli e poi passeremo la parola a Chiara Bergani. Prego, grazie a voi. Io ringrazio Anna per questo invito e ringrazio anche la professoressa Chiara sempre per avermi dato modo di ricordare il mio Dio. Il mio Dio era Giorgio Celli e mi chiamo per l'appunto Valeria Celli. Sono particolarmente grata perché vedete proprio circa una decina di giorni fa, il mio Dio, che sarà intitolato, è uscito sul giornale la notizia, che sarà intitolato un parco a Salat, un parco speciale con la biodiversità, con una fioritura di alberi e di fiori diversi a seconda dei mesi delle varie stagioni, dove si incontra. E oggi, cioè, sui dati, perché mio Dio ha sempre amato due cose. La natura, rendendo adesso nel mondo romantico la natura come alberi, i fiori, la terra, eccetera, e gli animali, ma soprattutto tra gli animali i gatti. Io sono qui, dunque, diciamo, perché la fama, la proprietà transitiva, non lo sapevo, l'ho preparato dopo, perché sono la nipote di Giorgio Celli, mio padre si chiamava Cuciano e aveva quasi 13 anni, forse quasi 14, più di mio Dio. Quindi sono cresciuti come due figli unici e praticamente quando io sono nata Giorgio viene un ragazzino. Quindi non è mio compito oggi dire degli aneddoti di lui da adulto, aneddoti che ha scritto nei suoi libri, che ha vissuto con sua moglie Paola e suo figlio Davide, che ricordano questi aneddoli avendoli vissuti con lui. Però io vi parlerò di mio Dio, diciamo, non proprio come cucciolo, perché quando io avevo tre anni lui ne aveva 15, ma insomma come un adolescente, una cosa di cui forse né mia zia né mio cugino chiaramente possono parlare. Mi chiamo Celli, di origine siamo romagnole. Mio Dio però è nata per nonna, perché mio nonno per motivi politici era un antifascista, fu costretto a fare molti traslochi, in uno di questi nacque mio Dio, Verona. Lo dico perché la Romagna in questo momento attraversa un moltissimo periodo, quindi anche un mio ricordo della mia origine, io sono nata a Forrimio, nonno era un teradimo, i miei anzienati, i miei bisnonni erano di Rimini, è come anche tale un ricordo per la Romagna. parlavo di mio Dio e dei gatti. Vi vorrei leggere questo piccolissimo brano innanzitutto, il brano di, a domanda se esiste il paradiso per gli animali, mio Dio così rispose, se il paradiso esiste, è giusto che sia popolato di animali. Ve lo immaginate un Eden, senza il canto degli uccelli, il carriere delle rondini, il belare delle caprette e la parere del buffo e curioso musetto di un coniglio. Di sicuro, nel mio paradiso ideale, non possono non richeggiare ogni angolo lì, da ogni angolo, il festoso a bagliare di cani che giocano finalmente sereni. Perché ho voluto leggere questo sul paradiso? Perché prima di affrontare una difficile operazione, che le tue complicazioni le portarono poi alla morte, mio Dio disse a tutti i suoi familiari, non ricordatemi con le parole, come adesso non stiamo facendo, ma il mio ricordo, potete fare due cose, o piantare un albero, cosa che mio cugino fa tutti gli anni in questi giorni, perché mio Dio è morto a giugno e era nato a luglio, oppure ha notato un gatto. E una mia amica, dunque le mie amiche, mi telefonavano, ricordando che io avevo detto loro questo, meravigliato, e mi dissero, non ti ho scritto nessun pinetto di condogliato, ma sono andata a prendere un gatto. E mi hanno promosso, veramente. Mio Dio, ve l'ho detto, vi ricordo, le cose d'adolescente. Innanzitutto, non immaginate con un professore che vi siete abituati a ascoltare. aveva una voce meravigliosa e soprattutto aveva una capacità eccezionale, oltre a una memoria formidabile, sapeva spiegare. Ero un insegnante nato. Mentre ero lì, ero piccola, se mi spiegava la teoria della relatività, io la capivo. Chiaramente dopo un'ora, due ore, due ore, non sapevo più niente, ma sul momento avevo capito tutto. Quindi, io sono cresciuta, diciamo, quando avevo 15-16 anni, con lui che mi parlava del linguaggio delle api, di come vivono le formiche, tutte cose che adesso sappiamo tutti, ma torniamo indietro. Io sono piuttosto vecchia, più di mezzo di secolo fa, molto di più. E quindi, erano cose eccezionali. E in casa tutti amavano gli animali. Per prima cosa, mio tio era diverso da come lo ricordate. Era un ragazzino, ma era un ragazzino, bello cicciotto, paffuto, grasso per dirlo con una parola. E faceva una grandissima fatica a studiare alle medie. Sape che mio nonno, avevano studiato i miei nonni, per allora. Insomma, mia nonna era ragazzino, mio nonno non so cosa, ma ci tenevano a far studiare i figli. Lui pensava a una scuola privata, quella delle maestre in prima, mi ci mancava. Poi, quando si trattò di scendere la scuola superiore, lui scrive un ragazzino, un ragazzino, un ragazzino. Perché? Perché così avrei sempre un tosso di pane, da buono o meno pratico. Chiaro? E se qualcuno di voi ha dei nipoti, dei figli che non studiano, questo mi serve agli inquaranti. Quando si trattò di dare la maturità, mio zio, che da grasso, era diventato un figlio, un bel ragazzo, e bevici tutte le materie. E allora c'erano ancora i voti, non c'era un voto unico, e la sua pelle, sì, su tutti i giornali. Ed era, e lì è cominciata la vera storia di Giorgio Celli. Come ha avuto quest'amore per gli animali? Perché, mio zio, è stato tante cose insieme. Dirle tutto è come racchiudere un mondo. Ha scritto libri di poesie, testi di teatro, ha fatto anche il premio Pirandello, ha fatto sceneggiature di film, ha messo in recitato in alcuni film, ha creato quella magnifica istituzione di Cisena in cui ci sono gli incerti buoni che servono a uccidere, dei settori nocivi. E per cui, anche a San Giovanni per se cento, ha lavorato in questo senso, del cittadino onorario in alcuni comuni, proprio per questo. Come si fa a racchiudere un professore alla carta dell'antropologia, che studia di ortologia, che ha scritto così tanto. È stato anche parlamentare europeo e la trasmissione sugli animali l'ha dovuto utilizzarlo per quello. È stata la prima trasmissione sugli animali, perché erano incompatibili con le linee e le linee politiche, chiaramente. E quindi è stato un mondo, mio Dio, difficile adesso per me riassumere. Però vi parlo allora di come si rivela in casa dei miei nonni romenoni, il ragù che funzionava, veniva usato per tutta la settimana e fatto il sabato che bolliva per ore e gli animali. Allora, il primo animale che mi ricordo vagamente fu una cartina bianca, ma io ero molto piccola e quindi non ricordo molto sfumato. Poi sono cresciuta in casa di mia nonna, ce l'ho io, potete, perché era in casa della nonna, perché mio padre ha cambiato molto in città per lavoro e quindi tra un trasporto e l'altro secondo me mi mettevo nei miei a casa dai nonni. Avevano due opzioni, o dalla nonna materna che abitava però in Campania, diciamo quindi a Sassomargoni, lontano dalle scuole, o in città dove abitavano appunto i nonni paterni. La prima cartina si chiama anche che io ricordo bene, si chiamava Sissina, era un magnifico esemplare di tanto storiavo, era bella, facciosa, aveva un piccolo problema, era gelosissima di me, immaginate i miei nonni, due figli maschi, arriva la nipote femmina, quando c'erano tutte le attenzioni erano per me, mio dio era grande, non soffriva allora di gelosia, ma la carta si e quindi tutte le volte che io passavo vicino dove era il gatto, cosa succedeva? Scraff, un graffio tremendo, voi dite, tu odierai gatto? Eh no, perché mia nonna era furba, e allora mi cominciò a dire che anch'io ero un piccolo gatto, un cucciolino, perché gli andavo in braccio, quindi era chiaro che la gatta era gelosa, e io accettava la gelosia della gatta. E' una gatta particolarmente intelligente che conviveva, diciamo, in casa dei nonni con un cane che si chiamava Pippo, un piccolo bastantino bianco peloso che io portavo fuori col nonno, chiaramente stimandomi da morire a portar fuori il cane a da piccolo e quando rientrava la gatta era sempre più gelosa. Questo è logico. Un giorno, mentre la nonna scienza a chiacchierare, entrarono dei ladri, voi non ci crederete, ma furono allontanati dalla gatta, nel senso che la gatta saltò, probabilmente perché non c'eravamo in cima all'armario e gli attaccò. E trovavamo il cane sotto al letto, perché il piccolo era andato, cazzo, qualcosa, il cane era stato benissimo, c'era terrorizzato. E tutti stavano in giro e la gatta con fare il noncorante che ci guardava, ma sembrava dire, avete visto come sono stata brava, perché buttò in terra in questa lotta tutte le piccole bottiglie delle toilette, ricordate che andavano quelle toilette con sopra le bottiglie gatta, quindi ci fu una baronda tremenda. Mio Dio abitava quindi con queste mani, li adorava, ma la preoccupazione di mia nonna quando lui usciva magari in bicicletta era con quale animale mi può tornare giovane, perché c'era il rospo con la stampa ferita, la viscia che forse era andata sotto una macchina e non erano sempre i cami e i gatti, avevi capito, tanto è vero che nel salotto di mia nonna c'era, lo ricordo benissimo, un rospo verde in ceramica grande così, lì, e io dicevo, ma è brutto, e lei, ma guarda quanto è bello, voi non ci crederete, ma gli occhi, i rospi mi sembrano bene, vedete cosa vuol dire il ricordo dell'infanzia sugli animali. e quindi però il gatto più famoso della storia della famiglia dei miei nonni era un gatto totalmente bianco, bianco aveva anche gli occhi gialli, quindi un gatto chiaro, probabilmente un gatto albino, dico io poi i pastelli rosa, le orecchie rosa, si chiamava Trombino. Voi dovete sapere che mia nonna cominciò a dire che Trombino faceva la pipì sul water. Noi cominciamo a pensare che la nonna avesse qualche problema, allora la nonna che era un giorno di me adesso, probabilmente, si capolava e terrono discussioni su questo gatto tra me e mio zio, mio padre e mia madre così la prendevano in giro e basta, e la nonna, che cosa abbiamo fatto? Per dei giorni abbiamo fatto l'appostamento al gatto, i gatti sono riservati, se arrivavamo il gatto, ti saluto, arriva, quindi infine un giorno immaginate la scena, due da dietro l'angolo, io piccola, mio dio più grande, a spiare il gatto in bagno. Bene, mia nonna aveva ragione, il gatto aveva imparato a fare la pipì sul bar. Allora, cosa pensate che mia nonna sia abbastato per uscire dalle nostre distanze, no? Perché io e mio zio cominciamo a dire, ma perché non gli segna anche di raggiù l'acqua, c'è la catena, allora, lì si attacca, e lei non ne poteva più di noi due. E poi, se volete, ne parliamo perché io ho avuto 24 gatti, i gatti, li conosco bene, ne leggono la poesia, i gatti, di mio zio, proprio per introdurre il libro. I gatti. I miei gatti si rincorrono nelle soffitte della memoria, si tuffano nel miraggio dei pesci in bottiglie d'acqua turchina sigillate da tappi a corona di un regno che non c'è. attraverso pomeriggi senza mattino giungono nella mia vita, puro sapienti, per offrirmi loro saggi aforismi e sparire nell'insonnia che apre i suoi meandri interminabili nelle terre degli anni che non tornano. stanno a guardia della mia solitudine, con un silenzio eloquente addolciscono le perplessità dei giorni, le paure remote della notte. le loro vibrisse sono i bilancieri per ballare sulla corda tesa degli albobaleni che brillano nei loro occhi di crisolito di fosforo. stanno in equilibrio sui sogni, pronti a svanire nelle tenebre dei loro passi felpati. vengono e vanno senza suono, ci sono, non ci sono, ci sono stati, ci saranno. il loro miagolio perdura nel tempo, viene da oltre il muro del giardino, si accorda con il canto dei grigli, suona le corde dell'alba siderale della neve. mi portano messaggi di pace come un passo in bocca, salgono sugli alberi per toccare la luna e ne scendono con le lampi polverate d'argento. sulla porta della sera fermano gli incubi. tutti i miei gatti sono stati un solo gatto che si muta a poco a poco nel mio ritratto. mi chiamo Chiara Vergani, non l'avete visto, vi ringrazio intanto per essere qui numerosi. ringrazio le organizzatrici per avermi invitata. Bologna è bellissima e ci sono tornata dopo alcuni anni molto volentieri, mi sono commossa, come sempre si mangia bene nella vostra città. complimenti per la cucina, io ho vissuto qualche anno fa a Ravenna, quindi ero solita venire anche a Bologna. mi piace molto questa location che avete, è veramente meravigliosa, studiata nei minimi particolari. si trascuda arte, storia, cultura e quindi è davvero molto caratteristica e in un uomo delizioso, perciò vi faccio davvero complimenti. l'introduzione della professoressa è stata non da meno, perché non solo abbiamo ricordato il professor Celli, illustre, ma anche abbiamo celebrato molto bene i gatti, vero? e io ho voluto celebrare il mio micio che ora ha 11 anni con questo testo, è l'unico autobiografico e sarà anche l'ultimo, perché di solito scrivo saggi sui temi sociali, quindi sulla violenza contro le donne, per esempio, libere dall'inferno, il mai più paura sul bullismo, altri sulla didattica a distanza, ne uscirà uno sulla resilienza, insomma sono un po' quelli i miei temi, i bipolari umili, corrivolti al sociale, ma ho voluto raccontarvi attraverso la vita che vivo, Vera, col mio gatto, perché solo lui forse mi conosce così profondamente, perché solo gli animali ci percepiscono ancora più degli umani nella nostra essenza più vera. D'Artagnan, come racconto, è arrivato in casa mia circa 11 anni fa, l'hanno portato mio figlio e l'allora sua ragazza, adesso è sua moglie, poi è diventata compagno con i mogli, ecco, e io non lo volevo assolutamente perché viaggiavo tantissimo, tutti i weekend in giro con libri, conferenze, quindi ho detto no, 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 ho detto io un gatto non lo posso avere, allora mio figlio ha detto ma mamma è abituata da piccola, ne avevi tantissimi, però dalla nonna c'era il giardino, così siamo in appartamento, allora ero un po' titubante e quindi la prima settimana sono stata un po' perplessa e dopo mi sono innamorata di questo gattino urlante che aveva due mesi circa, era nato in febbraio sotto il segno dei pesci, credo, dell'acquario, non so, e me l'hanno portato in aprile e quindi insomma un po' la porta mi ha raffitto il cuore, abbiamo avuto degli anni un po' turbolenti perché lui voleva dormire con me, io non volevo, lui grattavo sulla porta, poi io racconto tutti i danni, poi dicevo mio figlio mi ha fatto 6 mila euro di danni, dei divanti eccetera, ma diciamo che D'Artagnan alla fine ha vinto, ha conquistato il mio cuore ed è il mio migliore amico e due cose, due fatti particolari, beh mi seguo così, sono più familiari, due fatti particolari hanno unito le nostre vite, sono state le malattie, una mia e una sua, ho dovuto ricoverarlo in clinica per qualche giorno, quando andavo a trovarlo lui mi guardava come dire dove mi hai portato, in questa gabbia di acciaio così aveva le flebo e poi l'ho riportato a casa, ho visto che era felice, poi sono stata un po' male io e quando sono tornata dall'ospedale lui mi ha assistito amorevolmente, infatti avrei voluto intitolare invece che io sono D'Artagnan, Gatto Infermiere, ecco non mi nascondo che è un gatto un po' particolare perché morde, si adabba facilmente, ecco ha il suo caratterino, però direi che è vero è un libro autobiografico in forma di romanzo, però nel mio mood, visto che ci sono i temi sociali, il focus un po' resta quello, infatti affronto un po' questa tematica dell'assistenza agli animali, di cui marchiamo in Italia, vero? Perché dobbiamo sostenere privatamente le spese se il nostro animale si amare a altre, non tutti se le possono permettere, insomma sono sacrifici, quindi l'anno scorso ho partecipato a una trasmissione televisiva in Sicilia, dove dicevano che avevano appena aperto una clinica per animali, dove si paga quel ticket, insomma, ecco come per noi, in provincia di Cattania, quindi spero che quella possa essere un esempio anche per costruire altre realtà, quindi affronto un pochino questo tema e poi io direi anche quello fondamentale della pet therapy, perché alla fine forse siamo noi che abbiamo bisogno degli animali più che loro di noi, perché ho visto che anche il cagnolino mio figlio ha due cagnoline, ho visto che alla fine lui e sua moglie sono lì insomma sempre addosso a queste vestioline che loro adorano e c'è un veterinario che ha fatto la prefazione del mio libro, che so che è molto in contatto anche qui con Bologna, che si chiama dottor Marino Parolin, che ha raccontato un po' una sua esperienza. C'è qualcuno che vuole leggere? Scrivere la prefazione di un libro significa presentare al lettore un'opera di un autore il cui pensiero è frutto di una riflessione personale contenente un messaggio per il lettore. Chi la scrive quindi ha il compito arduo di esprimerne la positività del contenuto, cercando di motivarla e avvalorarne l'interesse. Quanto poi chi la richiede è uno specialista del settore, supportato da uno spessore anche intellettuale, allora il compito è ancora più impegnativo. Desidero sottolineare che questo testo è permeato dall'amore della scrittrice, non solo per il suo gatto, ma per tutti gli amici animali. Per Ghani, resi a trasmettere le sensazioni che prova, e i lettori si immedesimano nel suo vissuto, ritrovando una parte di loro stesse. Il concetto dell'essere gatto come creatura meravigliosa e vivente è ormai consolidato, come pure l'essenza della spiritualità che domina il suo comportamento affascinante. Fra gli episodi nella mia quotidiana pratica, ne cito ad esempio uno che è accaduto all'inizio della mia professione, in cui i supporti anche diagnostici nel nostro settore erano carenti, per non dire sconosciuti, e la cura era affidata all'esclusiva raccolta, all'amnestica ed esperienza clinica. Venne portato alla mia attenzione un gatto nero da un signore che mi manifestava una percepibile preoccupazione, oltre la normale richiesta dal caso. Mi chiesi la motivazione, visto che il gatto era affetto da una sindrome respiratoria a carattere febbrile, curabile con una terapia antibiotica. Mi rispose che suo figlio piccolo soffriva di insonni e gli fu consigliato di affiaccargli un gatto. Da quel giorno il figlio non solo riacquistò il sonno, ma i suoi comportamenti divennero meno ansiose. Il gatto, quindi, era la farmacologia più efficace e costante, eliminando ciò che la farmacopea prescriveva nel caso specifico. Ecco, io penso spesso a questo episodio, e lo cito ai miei colleghi in ambulatorio. Il gatto, questo essere vivente che ci guarda immobile, quasi ci giudicasse nei nostri atteggiamenti, e che procede con dei movimenti fermati, quasi impercettibili, occupa spazi infiniti nella nostra vita quotidiana. La sua presenza stimola costantemente la nostra riflessione sul suo pensiero, distogliendoci dai nostri momenti difficili. Si giustifica così la sua mistica figura rispetto alla divinizzazione nei secoli della vita dell'uomo. Anche in questo, il gatto è un vero capolavoro dell'esistenza, come lo definì Leonardo da Vinci. Per galice e greggiamenti il suo dati, e mi notificità tagliamo, eh? Il cui carattere prende forma nelle pagine intense, da leggere tutte, d'un fiato. Dottor Marino Parolin, medico veterinario. Grazie, grazie perché forse è importante sottolineare questo aspetto di terapia, di cura, insomma, degli animali, di come agiscano sulla nostra psiche, di come ci aiutino a superare in certi momenti. Per esempio, la nonna di una mia amica ha superato un intervento molto grave al cuore, oltre 80enne, perché doveva tornare dal suo cane. Lei diceva, ho fretta di guarire, ho fretta, ho, come si chiamasse, Lara. O Lara a casa diceva che, ecco. Quindi, insomma, questo aspetto è molto, molto importante. Dopo, naturalmente, io racconto anche delle cose scherzose e troverete anche D'Arti chiama l'arte. Perché, sì, qui ho fatto le prove, le ho fatto vedere, vediamo se trova la pagina, alcuni quadri. Ho fatto la prova e ho visto, per esempio, che ha una preferenza come me per l'impressionismo. Ecco, D'Arti chiama l'arte da sempre. L'ho scoperto, per caso, osservare rapito un grande quadro alla parete della camera di Alessandro, mio figlio. Si tratta della riproduzione del ritratto di Manet con il gatto di Renoir. La presenza dei gatti nell'arte negli ultimi secoli si è connotata con le forme di affetto dei pittori verso i felini, oppure di carattere simbolico. Ho provato a mostrare ad Arti dei quadri sul computer, come quello di Goya, due gatti che litigano, e anche in quel caso è rimasto fermo, immobile, attirato dalle immagini. Poi sono passata al dipinto di Meike, lo spirito della casa, una natura morta col gatto. In curiosità, ho sottoposto altre opere, alla mia palla di pelo, appulato dai paesaggi all'astrettismo, al figurativo e ai miei adorati quadri dell'impressionismo. D'Arti rimane immobile a guardarli. Quando io mi diletto a dipingere qualche acquerello, lui abbandona qualsiasi attività, addirittura diserta anche il pijolino, e rimane estasiato a fissarmi. Che sia un gatto sensibile, lo avevo capito dalle attenzioni che ha riservato il mio ritorno dalle poveri ospedalieri, ma che amasse in modo tanto diretto l'altro, ho dovuto verificarlo nel tempo, e ho constatato che addirittura si accorge, sapendo una nuova opera alle parenti. Ebbene, credo che questo legame animale-uomo-arte rappresenti la caratteristica fondamentale dell'esistenza, e nel mio piccolo amico, tale triade, si manifesta la perfezione. Negli anni l'ho esposto a diverse tecniche pittoriche per capire se avesse delle preferenze. Mi sono resa conto che mi assomiglia in questo, ama l'arte nel suo insieme. Forse una leggera simpatia in più per gli impressionisti, ce l'abbiamo entrambi. Mi piacerebbe che in questo libro trovassero spazio vari quadri di pittori diversi. E' quello che immaginavo. Ho scritto quello che immaginavo. Poi racconto anche di quando ho tentato di fare l'albero di Natale, e lo vedevo che dormiva, perciò io mi sono sentita tranquilla, e ho fatto quest'albero di Natale, bellissimo, mi sono tutta contenta, era rosso e bianco, topino verde, e la mattina dopo mi alzo mentre bevo il caffè e sento un colpo. Ho pensato, oddio, allora sono andata di là e l'ho trovato che si stava rampitando sopra l'albero. L'ho preso, l'ho messo giù, dopodiché ho detto, avrà visto che non deve andare, gli ho spiegato, eccetera. invece dopo due minuti l'albero era per terra con lui sopra, per fortuna le palline erano quelle che non si rompono, ecco non erano di dentro, e allora ho provato a farne uno più piccolo, però è stata la stessa cosa. Quindi per ora ho un piccolo albero che è diminuito, e tengo sul davanzaglio della finestra in mezzo alle piante così lui anche se salda non riesce ad arrivare. E quello è l'unico troppo che mi è stato con il senso di attaglio. Niente più albori. Niente, niente più albori. Ecco, quindi insomma racconto anche, è un po' semiserio, non so come spiegarvi, ecco, nel senso che racconto queste avventure col gatto, ma poi anche tratto, insomma, come avete capito, dell'aspetto affettivo che ci lega al mondo animale, io direi alla natura, in generale, voi vi celebrate la natura, quindi mi sembra ecco, che siamo tutt'uno nell'universo, e quindi un po' alla volta racconto tutti i vari passaggi che mi hanno unita a questo gatto, quindi io ero abituata a fare un viaggio di seguito all'altro d'estate, e poi a un certo momento ho rallentato e adesso non vado mai via per più di 3-4 giorni e mi devo sempre assicurare che ci sia qualcuno difidato che lo guarda, ma difidato perché ci sono tanti che possono guardare il gatto come deve essere anche perché ai gatti non piacciono tutte le persone infatti i gatti sentono le persone e sentono se a una persona loro non piacciono ma non è che questo ti spaventa io ho avuto una gattina e avevo un'amica la gattina siccome la mia amica non amava i gatti si limitava a salire in alto sul muovo e a fissarla fissarla senza battere il ciglio per tutto il tempo perché questa si muoveva sulla sedia non amava i gatti aveva sempre paura che la faceva l'endita però la fissava così in fretta come il piantino egiziano se l'otto così se stava in due ore la fissava per due ore era una cosa incredibile questa sia una cosa comune dei gatti no? si è una cosa comune di fare questo sì c'è anche Amoshoz che ha dedicato una poesia a un gatto un gatto non farebbe mai amicizia con chi non è ben disposto verso di lui i gatti non sbagliano mai sulle persone poi anche a Polinair il gatto io mi auguro di avere in casa mia una donna provvista di prudenza un gatto a passeggio tra i libri e in tutte le stagioni amici di cui non posso far senso invece Cesare Pavese è il vostro amico i gatti lo sapranno Cesare Pavese ancora cadrà la pioggia sui tuoi dolci seccianti una pioggia leggera come un amito o un passo ancora la bella e l'alba fioriranno leggere come sotto il tuo passo quando tu rientrerai tra fiori ed avanzali i gatti lo sapranno ci saranno altri giorni ci saranno altre voci sorriderai da sola i gatti lo sapranno udrai parole antiche parole stanche e vane come i costumi smessi delle feste di ieri farai gesti anche tu risponderai parole riso di primavera farai gesti anche tu i gatti lo sapranno riso di primavera e la pioggia leggera l'alba colori di acinto che dilano nel cuore di chi più ti spera sono il triste sorriso che sorridi da sola ci saranno altri giorni altre voci e risvegli soffriremo nell'alba viso di primavera ho voluto inserire qualche poesia che amo dedicata ai gatti vero? vero? meravigliosa anche quella che ha detto lei prima ecco quindi insomma avete capito poi c'è anche una signora che è presidentessa di un'associazione di tutela degli animali che anche lei ha voluto partecipare scrivendo qualcosa della presidente dell'associazione Circe Blatt di Pordenone lei ha detto semplicemente gatto si fa presto a dire gatto quanto sappiamo di questo piccolo magico imprevedibile felino domestico potendo se ne andrebbe in giro per la città per poi ritornare accovacciandosi nel posto più tranquillo della casa per riposare senza perderti di vista sfruttandoti con sguardo innamorato perché ciò che vuoi è la libertà lo vediamo come un compagno di vita poco impegnativo in quanto gli concediamo di condividere gli spazi abitativi credendo che in fondo non avendo la necessità di essere portato a spasso ci lascerà sicuramente in pace quale errore gatto d'appartamento gatto di campagna gatto randaggio insomma se lasciato libero e rispettato diventerebbe il gatto di tutti il gatto nella preistoria faceva comodo all'uomo per il motivo che teneva lontani i topi dai raccolti di grano il gatto era considerato sacro dagli egizi la cultura nipponica invece vede il gatto essenzialmente come una creatura nobile ricca di bellezza e di spiritualità i gatti creature enigmatiche che molte persone faticano a capire una peculiarità che accomuna tutti i gatti pur avendo caratteristiche diverse è avere lo stesso antenato il felino selvatico africano un abitante del deserto ma un'altra cosa particolare gatto e tigre non sono uguali tuttavia il dna è identico al 95% capite ora cosa avete in casa una straordinaria creatura che simula attacchi morde graffia pagliaguati balzando da una superficie all'altra risale infatti mio figlio dice sempre i gatti hanno il cervello come quello di una tigre perciò loro pensano di essere una tigre ecco perché ci fanno gli agguati tentano di aggredirci a volte ci mordono perché sì in miniatura sono delle piccole tigri poi ci sono quelli con temperamento più tranquillo d'artagnano non è mai stato tranquillo mordeva da piccolo continuo a mordere io lo accarezzo lui è buonissimo all'improvviso morde infatti ho sempre qualche infatti siamo riconoscibili noi noi gattari dicono che mordono quando sono non ha detto che ognuno in tv e il muro al mono io accendo e vedo ma è vero perché l'avevo visto solo in una piccola porto ma è stato un segno io insomma siccome ho carattere un po' adolescenziale se no infatti io mi dico come fa essere da tutte e due le parti poi non sono scrittata ovviamente non sono scrittata tanto però è la prima cosa è un libro veramente bello e vi voglio dire che quando si parla di gatti tutti dicono anche il mio anche il mio ma il zio diceva sempre non ci sono i gatti c'è il gatto perché ogni gatto è perso dall'altro anche nella sfumatura nell'approccio al padrone e l'ha sempre detto sapete che gli autori fanno insomma molta fatica ad accettare i libri quindi di solito a chi rispondono dopo sei mesi così pensate che io ho mandato io avevo scritto dei libri con edizioni però poi loro non facevano non avevano una linea per questo allora come scrivo in vari blog in varie riviste la direttrice di una rivista mi ha detto proviamo a andare alla tre mi ha detto sono molto selettivi vediamo e insomma io ho mandato di domenica questa bozza di questo libro dopo due ore ho messo la mia mail naturalmente il numero di telefono dopo due ore questo signore mi ha telefonato di domenica ci sono rimaste mi ha detto sa dice ho un lato anch'io ho voluto dare una sverciata mi ha detto lo pubblico mi piace ho capito che probabilmente insomma è un tema che prende molto le persone anche se non vi nascondo che il mio libro più venduto ne avevo una coppia prima l'ha comprato qualcuno è Bipolare in Bilico ecco sto scrivendo un secondo libro su quell'argomento me l'ha chiesto appunto quest'editore assieme a un'avvocatesa perché sto ora così vi racconto quello che sto facendo insomma per il futuro se tornerò magari tornerò con questo libro praticamente io quando scrivo dei libri tratto sempre una parte scientifica traduco le ricerche fatte di solito in America non per essere un filiale piuttosto perché in Italia le ricerche sono di tipo trasversale sul qui e ora mentre in America sono longitudinali quindi ci sono degli studi che durano anche vent'anni e in certi settori interessano le conseguenze per esempio ovulismo per esempio ecco le patologie mentali e quindi una parte sempre di ricerca scientifica medica e poi io raccolgo le testimonianze allora ho delle testimonianze che i pazienti veramente mi rilascerebbero anche col nome ma io metto sempre l'iniziale e basta per tutelarne la privacy come giusto che sia e allora ho chiesto a un'avvocatessa di collaborare con me per scrivere la parte inerente la legge cioè come la legge tratta la patologia mentale perché per esempio mi è stata rilasciata una testimonianza da un signore dove inizia a parlare del tribunale perché loro hanno dei periodi di alta e di bassa l'umore e così e quindi è molto interessante insomma anche capire perché tante persone soffrono di questo disturbo ecco è interessante capire come come aiutare queste persone perché penso che una diagnosi precoce possa migliorare la qualità di vita perché si trova più velocemente la cura ecco quindi quello è un lavoro un altro lavoro che sto facendo è sulla resilienza e ho coinvolto anche dei ragazzi di scuola io spesso faccio conferenze a volte online perché sabato scorso dovevo essere a Salerno ma l'ho fatta online quindi dicevi di Salerno non arrivavo perché poi martedì dovevo essere su nel nord del Pordenone allora insomma devo anche insegnare faccio meglio che posso e quindi per esempio i ragazzi hanno fatto tutto un progetto un lavoro sulla guerra quindi sulla reazione ai disturbi che si possono avere anche a livello psicologico in una guerra e quel lavoro lì mi ha anche servito per scrivere professione docente in tempo di guerra perché sembra di no però gli insegnanti che devono accogliere dei ragazzi che arrivano dall'Ucraina ma anche da altre realtà di guerra a volte sono disorientati non sanno devo parlare di questo argomento devo fare a meno devo fare finta di niente allora lì ho cercato di spiegare anche in base all'età come è meglio rapportarsi perché questo anche per quanto riguarda il bullismo se c'è stato un episodio grave comunque c'è un disturbo post-traumatico da attenzionare da tenere in considerazione quindi da tutelare la persona da non parlarne se non è lei a parlarne da avvicinarsi con le dovute maniere da annunciarsi perché spesso può avere dei flashback dei ricordi di quello che ha vissuto ecco quindi come capite a me interessa sempre la parte umana e mentale di qualsiasi tema sociale oltratti in particolare l'abilità della mente umana come come si muove la mente perché sembra che possiamo essere tutti uguali e anche noi stessi sempre uguali invece in realtà possiamo scoprire anche a una certa età delle caratteristiche nostre diverse possiamo cambiare possiamo accettarci maggiormente e quindi insomma questo è un po' il mio mood e quindi per esempio in mai più paura questo sul bullismo ci sono tutti i miei interventi televisivi entravo al telegiornale sono entrata per tre anni poi non sono stata bene mi ero come vi dicevo un po' rotta braccia e gama così allora poi sì collaboro ancora però meno intensamente e magari ecco vedete come delle pre registrazioni come in Rai questa mattina e quindi quello è frutto appunto degli interventi televisivi sul bullismo e sul cyberbullismo poi ho trattato tanti temi altri su cui sto preparando un libro che li comprenda un po' tutti come per esempio le dipendenze sia da sostanze che da alcol oppure la ludopatia le sette ecco sì perché ho una ho avuto qualche testimonianza importante su questo e un altro delle cose un po' cominciate di solito mi piace iniziare e finire però mi è capitato in questo periodo di avere tante cose iniziate che poi un po' alla volta finirò e ho conosciuto perché eravamo ospiti entrambi a una trasmissione televisiva Yolanda Bonino che è la presidentessa dell'associazione contro le truffe affettive e lei è stata truffata e sì che è una donna che è stata anche sindacalista quindi una donna bella tosta però sapete ha avuto una truffa penso sui social è stata contattata da un signore che poi gli ha chiesto in realtà un sacco di soldi non si è mai intanto vedere e quindi quando quando ha capito ecco di essere stata truffata ha fondato questa associazione ha messo le basi un po' in tutta Italia e avevamo detto appunto di collaborare alla stesura di un testo io insomma per adesso ho tutte queste testimonianze di donne quindi insomma avete capito più o meno qual è il mio raggio d'azione allora vorrei farti una domanda Chiara per chiudere visto che tu ti occupi proprio di tutti questi argomenti che sono andati al tuo lavoro quindi la psicologia il terramo che tu tratti la psicologia e per concludere visto che abbiamo parlato di gatti in realtà ci confermi che comunque gli animali che possano essere gatti cari qualsiasi tipo di animale non essere che uno possa tenere con sé in casa sono veramente un aiuto anche per curare tante patologie possiamo confermare sì io ho anche una tartaruga si chiama Geltrude a vent'anni è una tartaruga d'acqua e non era più a suo agio nell'acquario allora ho un terrazzino con sapete quei lavabi di una volta di pietra è molto grande allora le ho inventato questo acquario per lei e quindi sta lì è diventata bella grande allora D'Artagnan la va a trovare non so come faccia perché percorre il bordo di questo lavandino e dico sempre adesso cade adesso cade i gatti hanno questo equilibrio perfetto vero questo equilibrio e io insomma non immagino la mia vita la mia casa senza animale ecco e da piccole insomma sono cresciute in mezzo ai gatti tanto che mi ricordo che a Natale confezionavo dei vestiti per i gatti e non per le bambole e mi ricordo tutti questi gattini piccoli nascosti sapete che le credenze di una volta nascosti voleva nascosti quindi insomma sì ho avuto una mamma che adorava tanti gatti mio papà non gli adorasse però deve essere successo io sono arrivata tardi quella sera non ho visto la scena ma si è successo che lui si è caduto perché probabilmente tre o quattro gatti gli sono fatti io sono arrivata e gli diceva se tu porti ancora a casa gatti io porto topi porto i bimbi ho sentito non li piegavano ma avevo sentito questa discussione di cese comunque i gatti sono rimasti fino alla fine alla fine anche lui ne aveva uno denominato Porsi che era diventato il suo gatto quindi come vedete si era molto ammorbidito altre domande da fare sono altre cose da dire diciamo che possiamo davvero ringraziare voi che siete intervenuti ci avete smovimentato tutto il nostro incontro la nostra scrittrice che si è mostrata a Pordenone quindi non da dietro l'angolo per venire appositamente da noi è la nostra professoressa che ci ha parlato di Giorgio Celli che è sicuramente un personaggio sempre molto importante nella nostra storia quindi vogliamo ringraziare tutti la nostra finitura stessa meraviglia grazie 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 benissimo grazie grazie